karen bursin ha un grande sogno karen bursin che si innamorò di undersell e trovò la felicità è tra i nomi famosi che vincono sia sul lavoro che in amore il famoso attore che fino ad oggi è stato coinvolto in progetti di successo è conosciuto in diversi paesi del mondo in cui ha recitato di recente a una grande base di fan karen bursin sta senza dubbio vivendo il periodo più brillante della sua vita ultimamente il famoso attore apparso sulla copertina del numero di ottobre di l turkey magazine ha deliziato i suoi fan che hanno perso il suo dopo la fine della serie karen bursin ha rilasciato dichiarazioni sincere alla rivista spiegando i suoi sogni alla rivista il 34 n karen bursin ha dichiarato il mio sogno è poter fare questo lavoro nel modo più bello e divertente fino a quando avrò 70 meno 80 anni esprimendo che ama molto la turchia l'attore ha dichiarato quando vivi in così tanti paesi diversi le persone hanno naturalmente un problema di appartenenza ma io appartengo alla turchia lo sento molto chiaramente amo il mio paese penso che una delle cose più straordinarie di noi sia che le nostre amicizie sono così forti anche la parola amico è molto speciale per me essere in grado di avere conversazioni profonde illimitate profonde con la persona che chiami tuo amico sapendo che saranno lì per me non importa di cosa ho bisogno non puoi trovarli facilmente in nessun'altra parte del mondo virgolette e di questo momento 我mata sicuri che si sapendo che anche l'uomo sapendo che si Grazie a tutti.